Azienda di trasporto Biasini a Maserata di Piave, siamo con Fabio, fa parte della famiglia titolare di questa azienda. Intanto ci puoi illustrare cosa fa questa azienda? Sì, la nostra è un'azienda a conduzione familiare che conta circa 60 dipendenti e che da quasi 50 anni svolge il servizio di trasporto e di logistica in supporto all'industria del mobile e dell'arredamento. Voi come altre aziende di autotrasporti avete un problema, quello di recuperare delle figure come autisti e per cui c'è una motivazione per la quale voi fate fatica a trovare queste figure? Sì, le motivazioni sono sicuramente molteplici. Una su tutte, la più lampante è sicuramente il costo quasi proibitivo che oggi hanno le licenze e le patenti professionali e quindi di guida. La Pindustria, che è un organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneta, con fondi europei, farà un tirocinio per i giovani che vogliono acquisire questa patente, tutta gratuita, questo è importante. E voi come azienda Biasini qui di Maserada avrete un ragazzo che verrà da questo tirocinio e per cui se va bene magari troverà posto, per cui una iniziativa importantissima. Sì, sicuramente questo è un progetto molto interessante portato avanti da Appindustria perché consente quantomeno di dare una sorta di ricambio generazionale alla categoria degli autisti, che oggi purtroppo non c'è. Anno dopo anno l'età media degli autisti aumenta e quindi le aziende come la nostra vanno veramente in difficoltà a reperire del personale che abbia anche le competenze adeguate per fare questo tipo di lavoro. Ecco, prendiamo l'occasione in questa situazione di coronavirus, voi siete azienda di trasporto e per cui lavorate con moltissime aziende di vario tipo, come sta andando secondo lei la produzione e le aziende in generale? Beh, la produzione in realtà non si è mai fermata, abbiamo avuto in gestione picchi di volumi, di merci che non erano assolutamente previsti e questo da una parte ci ha colto un po' la sprovvista, dall'altro ci ha fatto sentire ancora più viva l'esigenza di reperire delle figure qualificate per questo tipo di lavoro, quindi è un buon periodo, servono delle figure adeguate per questo.